Amiche e amici di Rossini TV, come passa il tempo? Sembra ieri che abbiamo cominciato queste tre tappe di avvicinamento al Festival dei GAD, aspettando il GAD, appunto il titolo della nostra trasmissione, e già siamo a ridosso, anzi, anzi, addirittura la parte del fuori concorso è già iniziata. A forza di aspettare il GAD, il GAD è arrivato e è anche iniziato, come detto bene. Abbiamo già avuto uno spettacolo fuori concorso inserito nel GAD Festival Ragazzi, il mattinè di Roberto Mercadini in l'Orlando Furioso, e ora siamo pronti per partire con la fase, quella decisiva del concorso e anche delle altre proposte. Cristian, entriamo nel cartellone, anche perché se ci perdiamo in chiacchiere io e te, non si sa dove ci va a finire, e allora direi di entrare in pieno nel cartellone, anche se sicuramente le varie esortazioni, i vari consigli, i vari suggerimenti che abbiamo dato, avranno fatto sì che tanta gente abbia deciso appunto di abbonarsi e di partecipare, perché un po' la filosofia di una rassegna, di un festival, è proprio questa, secondo me, al di là della gara, che è importante, è fidarsi dei selezionatori. Ricordiamo, e poi dopo entriamo nel merito, ricordiamo che questi otto lavori selezionati vengono da una selezione di 85 proposte che a loro volta erano autoselezionate perché non tutti mandano tutto quello che hanno, per cui diciamo che arrivano già da un lungo lavoro. Di conseguenza, fidiamoci di questo lavoro, fidiamoci completamente e andiamo a vederle tutte. È la creme della creme di quello che offre il mondo del teatro non professionistico. A questo punto colgo anche l'occasione per ringraziare chi assieme a me ha fatto il lavoro di selezione, quindi Giuseppe Esposto e Hortensio Rivelli, con i quali formiamo una squadra affiatatissima che si guarda tutti gli spettacoli più e più volte e poi fa delle discussioni e alla fine arriva questa scelta che a noi lascia molto soddisfatti. Discutete tanto? Curiosità da backstage? Ma guarda, devo dire che la cosa importante è che arriviamo sempre a una scelta totalmente condivisa e unanime, però è anche bello che ci arriviamo attraverso anche un confronto maiaspro, ma comunque è la ricchezza della Commissione avere anche, mettere insieme anche visioni che partono da riflessioni anche diverse, ma poi convergono sempre su una scelta che è condivisa da tutti in maniera totale. E questa condivisione delle scelte ha portato a questo cartellone. Ha portato a questo cartellone, ricordiamo che il concorso si svolge in due weekend, partiamo giovedì 20 ottobre con una compagnia che torna al Festival dopo tanto tanto tempo, che propone trappola per un uomo solo, è un giallo, un giallo a teatro che si caratterizza per un finale veramente a sorpresa. Ho letto da qualche parte nei commenti, dice, il più straordinario e spiazzante finale che si possa vedere a teatro. Quindi con questo invito ai curiosi del genere, venire a teatro a vedere il primo spettacolo in concorso, appunto un giallo trappola per un uomo solo di Robert Thomas. Proseguiamo il giorno dopo, venerdì 21 ottobre, con una compagnia che è una presenza molto ricorrente al nostro Festival, parlo della Compagnia dell'Eclisse di Salerno, sono degli attori veramente bravi, degli attori in scena, ho ricordato già più volte negli appuntamenti di comunicazione, che due sicuramente, ho dei dubbi sul terzo, ma due sicuramente hanno più volte vinto il nostro premio come migliori interpreti al Festival. Il testo è un testo contemporaneo di Claudio Grattacaso ed è l'Acquario, dove si trovano appunto come in un acquario a dialogare questi tre personaggi ed è uno spettacolo sulle relazioni umane molto molto interessante, ripeto, portato in scena con grandissima maestria da tre grandi interpreti. Proseguiamo con un grande classico del teatro perché la compagnia teatrale di Lonigo, Vicenza, l'Archibugio, presente l'anno scorso al nostro Festival, propone Sirano de Bergeracche di Rostano, quindi un grandissimo classico del teatro, portato in scena appunto da questa compagnia, e Vicentina, facciamo questo viaggio sempre in Italia, andiamo da Vicenza a Salerno, torniamo a Vicenza, casualmente quest'anno due compagnie di Lonigo, un piccolo paese del Vicentino, il Veneto è una terra molto molto generosa che ci offre sempre tante compagnie di qualità e quest'anno addirittura due dallo stesso paese Lonigo in provincia di Vicenza. Domenica un'altra compagnia che torna al Festival dopo essere stata presente tante volte e anche avere vinto il nostro Festival è la compagnia Gad Città di Trento che porta un altro testo dal titolo importante. Qualcuno volò sul nido del cucolo, famoso più per la sua versione cinematografica con un'incredibile interpretazione di Jack Nicholson, uno spettacolo ambientato in un istituto di cura per malati di mente, insomma uno spettacolo che mette in campo emozioni, emozioni forti, molto ben rese da una compagnia di solide tradizioni e di capacità attoriali fuori dal comune. Tu che l'hai visto, chi fa grande capo? Ha quella struttura oppure è un personaggio... anche fisicamente insomma rende bene... Chi ha visto il film sa di cosa parlo, chi non ha visto se lo vado a cercare anche solo un frammento. E siamo arrivati a Domenica. Siamo arrivati, questo era lo spettacolo di Domenica. è anche un'artista che disegna dal vivo le fiabe che sono raccontate. Mercoledì si ride, si ride tanto, Tom Dick Henry di Michael Ray Cooney, famosi soprattutto, Ray Cooney in questo caso accompagnato dal figlio, ma Ray Cooney è autore di Taxi a due piazze, uno spettacolo che ha divertito tante generazioni, è forse il più famoso a firma di Cooney. Questo Tom Dick Henry è altrettanto divertente e quindi la compagnia è l'Accademia dei Riuniti di Umbertide, anche qui una compagnia che viene da qui vicino, già presente al Festival tanti anni fa e che ritorna al Festival con una grande gioia che ci hanno comunicato loro dopo. Ci hanno mandato tra l'altro la locandina della loro precedente presenza che credo risalisse agli anni 50 più o meno. Un grande ritorno. Giovedì 27 ottobre, anche qui un ritorno di una compagnia che è venuta un paio di volte divertendo tantissimo il nostro pubblico, forse qualcuno ricorderà Funerale di Papà o Frankenstein Junior, quest'anno torno con Aspiranti Assassini, ancora una commedia, ancora un giallo, ma questa volta un giallo in cui si ride e si ride tanto, che è ospitato dal nostro Festival. Proseguiamo con uno spettacolo, un classico perché abbiamo un autore fra i più rappresentati e che spesso è anche oggetto di grande attenzione al nostro pubblico delle scuole perché è Luigi Pirandello con Il Gioco delle Parti, ancora una compagnia di grande tradizione presente al Festival più volte, sto parlando della compagnia teatrale La Betulla di Nave Brescia. E concludiamo sabato 29 ottobre con una compagnia che fu l'anno scorso presente al debutto con Edipo e che quest'anno presenta Don Quixote Sancho Panza, anche qui un grande classico della letteratura, questa volta spagnola, che viene portato in scena da questa compagnia che l'anno scorso colpì soprattutto per la straordinaria interpretazione dell'attrice che poi risultò vincitrice del premio, appunto come migliore interprete femminile. Sabato sera si conclude il concorso, la notte la passiamo come giuria a decidere chi avrà vinto e l'appuntamento poi per domenica 30 ottobre alle 10 sempre al Teatro Sperimentale per la cerimonia di premiazione. Ricordiamola questa cerimonia di premiazione perché è una cerimonia nella quale si vivono delle belle emozioni, non è semplicemente riservata agli addetti ai lavori, è aperta, è aperta a tutti, tra l'altro si svolge appunto allo sperimentale per cui il posto c'è e io consiglio di partecipare anche a chi avesse visto solo uno o due commedie se non altro per vedere com'è andata a finire, insomma, e in più ovviamente chi ha partecipato a tutte le rappresentazioni non può mancare. E ricordiamo anche che c'è questa parte importante che fa il pubblico, perché c'è questo premio del pubblico nel quale è il pubblico a scegliere, uscendo di sala ricevono un tagliando, anzi lo ricevono all'entrata e uscendo di sala, questo tagliando serve per il pubblico. Votano immediatamente dopo la visione dello spettacolo, quindi il premio del pubblico, il premio della giuria giovani che anche quest'anno è una robusta giuria di giovani delle scuole superiori più i premi assegnati dalla giuria ufficiale che quest'anno ha una curiosità perché ho voluto fare questa scelta un po' particolare perché ho chiamato a presiedere la giuria un regista vincitore del premio come miglior regista negli anni passati. Quest'anno sarà Massimiliano Giacometti della compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Torino, premiato due volte come miglior regista negli anni passati e ho voluto così inaugurare un po' come fanno i grandi festi anche cinematografici, che sono grandi registi che presiedono le giurie e anche nel nostro festival ho voluto tentare questa strada che conto poi di riproporre anche negli anni a venire invitando sempre rappresentanti autorevoli del nostro mondo chiamati a giudicare il lavoro dei propri colleghi. Possiamo definire questa mattinata una mattinata spettacolo a sua volta? Bravissimo, è una mattinata spettacolo, è una mattinata, lo dicevi tu prima, di grande emozione perché una cosa a cui teniamo molto il nostro festival è chiaro, chi è vinto sorride, chi non vince magari per un attimo è amareggiato, ma è soprattutto una grande festa per tutti e uno dei momenti più belli del nostro festival, cui teniamo di più, è il pranzo che segue la cerimonia per premiazioni in cui ci ritroviamo tutti assieme, in cui c'è veramente una comunità legata dall'amore, dalla passione per il teatro che si ritrova a condividere le emozioni che li hanno accompagnati nelle due settimane precedenti. Quindi è veramente una festa in cui si rimarca quello che abbiamo detto anche all'inizio di questo ciclo di trasmissioni, veramente vincono tutti il nostro festival perché la vera vittoria è essere presente e far parte di una comunità legata da passioni così forti che in quella occasione emergono in tutta la loro forza. Tra l'altro le tempistiche lo fanno intuire perché l'ultima commedia in concorso è il sabato sera, il sabato notte loro ci lavorano, per cui le tempistiche già fanno intuire che è tutto vero, cioè non si sa niente. Vi posso confermare che un paio d'anni fa ho avuto l'ardire di chiedere a Cristian registrando lo speciale che poi sarebbe andato in onda dopo, se mi dava qualche anticipazione e dico perché tanto questa la vedono, no, niente, niente da fare, niente da fare. Prima della proclamazione ufficiale che avviene dal palco domenica mattina non esce niente da quelle bocche cucitissime per cui posso immaginare l'emozione delle compagnie perché poi alcune compagnie restano, alcune tornano apposta. Tutte, tutte tornano, tutte le compagnie sono rappresentate. E sono rappresentate, sono lì e sono lì e non lo sanno e non sanno e l'esplosione di gioia è molto teatrale di molti ed è giusto che sia così, è veramente uno spettacolo. Cristian, abbiamo finito, anzi siamo andati anche un po' oltre, dobbiamo presentare lo spettacolo che questa sera conclude questo nostro trittico di appuntamenti e che hai scelto benissimo perché è lo spettacolo che ha vinto l'anno scorso. Che ha vinto l'anno scorso, tra l'altro una curiosità perché lo spettacolo che vinse l'anno scorso della Compagnia del Teatro degli Oscuri fu portato in scena appunto dalla Compagnia che vinse anche due anni fa, quindi una cosa, non un caso unico in una storia lunghissima, la storia del festival, però molto raro che la stessa Compagnia vinca con due spettacoli diversi in due edizioni successive. Non succederà quest'anno perché non è stata scelta la Compagnia del Teatro degli Oscuri, però veramente è una tradizione straordinaria di questa Compagnia che spesso è legata a testi del loro territorio, su una Compagnia Campana, ma che l'anno scorso invece propose un testo completamente fuori dal loro canone al cui ci avevano abituato per contesto di un autore canadese, Patrick Quintal, Kraken, Favola e la deriva. E a conferma di tutto quello che dicevi fu l'ultimo spettacolo proposto, quindi sabato sera e la notte fu il momento in cui si decise che fu anche lo spettacolo che vinse l'edizione del festival. Uno spettacolo molto particolare, una scena estremamente curata e originale, una favola appunto, una favola moderna che invitiamo gli spettatori a guardare veramente con, se vogliamo anche con lo sguardo di un bambino, con una libertà diciamo di approccio che sicuramente lo può fare apprezzare, può fare apprezzare al meglio. Bene, allora invitando i telespettatori di Rossini TV a seguire anche questa commedia che vi abbiamo proposto nell'ambito di questo avvicinamento al Festival dei GAD edizione 2022, 75esima edizione, vi aspettiamo naturalmente a teatro, seguiremo ancora con degli speciali lo sviluppo e la conclusione del Festival, per cui ci sarà tempo Cristian per i ringraziamenti dettagliati alla giuria, a tutti quelli che si daranno da fare in questi giorni per arrivare a compimento del Festival appunto direttamente sul palco perché c'è un grande lavoro prima ma poi il momento quello cruciale è quando si apre il famoso sipario. Grazie per essere stato con noi, averci raccontato così bene il Festival, d'altra parte chi meglio di te, direttore artistico del Festival dei GAD, oltre che direttore artistico di un sacco di altre cose comunque va bene e niente, io sono convinto di aver fatto un bel lavoro per i nostri telespettatori di convincimento a partecipare a questa che è veramente una delle manifestazioni più importanti della nostra città, ma lo ricordiamo il festival più longevo a livello nazionale per quanto riguarda il Festival teatrale più longevo a livello nazionale. Buona visione e ci vediamo in teatro. Ci vediamo a teatro, grazie a tutti.